Si chiama Maika Kukukova, ha 26 anni d'età, è sull'ovacca, è giovanissima e, pensate l'ultima ragazza, avrebbe ucciso nella casa a vacanza in Costa del Sol, Andrew Bush, un uomo di 48 anni d'età. Per questo motivo la ragazza sarebbe stata condannata a 25 anni di cancere, dopo aver ucciso il fidanzato. La ragazza sarebbe stata a salire dalla legiosia nel vedere il suo fidanzato con un'altra donna. A quel punto la Maika avrebbe sparato ben tre colpi di pistola, lasciando il corpo in una posta di sangue che poi sarebbe fuggita. Successivamente però si sarebbe costituita la polizia. I fatti sarebbero risalenti al 2014 che si è concluso il processo in questi giorni con la sentenza. La donna avrebbe provato a difendersi, sostenendo che lei avrebbe amato il suo uomo e che la sua reazione eccessiva sarebbe stata dovuta alla sua eccessiva eccessiva. Questo sarebbe quanto. Grazie per l'ascolto e il video termina qua. Un saluto e a presto.